Bene, passo la parola allora a Luigi Brugnaro. Grazie. Sono sincero, sono veramente molto emozionato e anche per certi versi ho anche molta paura di deludere qualcuno, per cui cercate di capire se magari non leggo un discorso, magari sbaglierò qualcosa e poi sono puntualmente attaccato, ho capito che il posto dove mi sto infilando è un posto abbastanza complesso. Credo che deluderò molte persone oggi, perché io non mi candido al sindaco della città di Venezia, io mi candido al sindaco di Mestre, di Marghera, di Zellarino, di Favaro, di Malcontenta, del Lido, di Torcello, di Murano, di Burano, cioè il sindaco della città, il sindaco dei miei cittadini, dei miei amici. Ecco, ho dovuto prendermi un tempo per riflettere veramente per quello che era successo e ho voluto prendermelo tutto, in libertà e in autonomia. Io, insomma, quelli che mi conosco qui dentro c'è una sala di tanti amici, che per cui non fate testo elettorale voi, cioè molti di voi e tanti mai non mi conoscono, tanti sono amici. Io vi ringrazio di questa presenza. Però la cosa che voglio dire è che ho riflettuto molto, io ho un amore particolare per questa città, cioè come penso tanti abbiamo nel cuore. Credo non sia giusto vedere, dopo quello che abbiamo visto, che possa essere così ma ridotta, sembra che non abbia speranza, sembra che la rassegnazione ci ha un po' pervaso tutti quanti. Ecco, io mi sono letto, ho guardato, ho ascoltato i dibattiti, un po' di tutto quello che ho sentito, eccetera, e le proposte che ho visto, che sento, più che perché mai le proposte verranno spiegate meglio, eccetera, non mi convincono. Non mi convincono nel cuore, personale, cioè l'impresa privata, il lavoro del privato è sempre in conflitto col pubblico, deve essere sempre in conflitto col pubblico. Il privato è cattivo, il lavoratore viene tassato e bisogna stare attenti qua, bisogna stare attenti là, bisogna stare attenti nella vita intera a stare attenti. Ecco, io non sono d'accordo. Cioè io credo, la mia vita l'ho dimostrato nella mia vita, io mi sono guadagnato la mia libertà. Me la sono guadagnata col sudore della fronte, col sudore anche di tanti che sono anche in sala, magari che sono i miei collaboratori, che hanno lavorato con me, ma come voi siete persone libere. Ecco, questa dignità, cioè alla dignità, all'orgoglio che mi sono conquistato, io non ho intenzione di rinunciarmi. Io il patto lo faccio coi cittadini, io non ho fatto nessun patto coi partiti, potete scrivere quello che volete, non mi interessa, non farò un'azione contro nessuno. Io il patto e il giuramento lo farò con i miei concittadini, che hanno problemi enormi. Ho dato la massima disponibilità ai partiti, a tutti i partiti, di poter essere presenti, di dare una mano. È il momento di dare una mano, tutti. Chi non ci sta si assume le responsabilità di altri disegni, di altri progetti. Io penso che in questo momento il mondo del lavoro, il mondo dell'economia, l'economia, la ricchezza stessa della città, è in grave, in gravissimo pericolo. Abbiamo ascoltato l'altro giorno il commissario, che ha dato cifre da capogiro, cifre da apocalisse, per chi le cifre le sa leggere. Siamo sul precipizio di un baratro, non c'è nessun interesse da parte mia di scendere in campo. Io ieri ho parlato con Giorgio Squinzi e ho rassegnato le mie dimensioni dal Consiglio Direttivo della Confindustria Nazionale. Io il caro ce l'avevo quanto volevo. Ho rassegnato le mie dimensioni dalla Giunta Nazionale di Confindustria. Abbiamo e ho sospeso le mie cariche di diritto in Consiglio Direttivo in Confindustria Venezia. Ho sospeso le mie cariche di diritto in Giunta di Confindustria di Venezia. Ho sospeso la mia carica in Expo Veneto. Anche quello è un grande lavoro che stiamo facendo, che c'è l'Expo, fra un po' nessuno se ne è accorto. Stiamo lavorando come matti, come le persone di buona volontà. Io non ho nessun conflitto di interesse e anche su questo, quando ci fosse, lo eliminerò. E parleremo subito dopo anche di tutti quelli che dovrebbero essere i miei presunti conflitti di interesse. Se il mio conflitto di interesse è che io sono una persona che lavora, onestamente, non ho mai fatto male a nessuno. Ho sempre la guadagnato e lavorato e ho investito tanto in questa città. E ho dato tanto e ho intenzione di dare ancora tanto. E comunque vada, chiedo, vi faccio un appello, datemi una mano, damoci una mano perché in questo momento le partigianerie di destra e di sinistra non servono, non serviranno a nulla. C'è bisogno di tanta collaborazione e di tante persone. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei giovani, degli anziani, che devono immaginare che noi dobbiamo fare una città che è per loro. A questa città manca un progetto strategico, a questa città manca un disegno. Poi arriveremo a parlare dei marciapiedi e andremo a parlare anche dei tombini. Arriverò in tutti i posti, in tutte le case di chi mi vorrà vedere. Andrò a parlare con i cittadini. Starò a tempo pieno in campagna elettorale, ve lo giuro, senza una polemica protestuosa, senza un attacco preconcezionale, apprendo e lasciando aperta la porta a chiunque vorrà aiutarci. Noi facciamo una lista civica, io ho intenzione di candidarmi come lista civica Brugnaro, che sia chiaro, col mio nome ci metto la faccia. La faccia ce l'ho, ci tengo, spero che anche voi capiate che cosa mi costa, ma vi garantisco che lo faccio, è un atto d'amore per questa città. Non ho nessun interesse a fare questo. Noi dobbiamo voltare pagina, dobbiamo voltare pagina, non dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua, è sbagliato il massimalismo da una parte o dall'altra, ci sono cose negative, ci sono cose positive. Dobbiamo accendere la luce, deve diventare tutto trasparente. Dobbiamo leggerci il bilancio, abbiamo già iniziato a farlo e questo è uno dei motivi per cui abbiamo anche riflettuto molto, sappiano le persone in povertà, sappiano le persone che hanno bisogno, le persone che sono in difficoltà, i giovani che non trovano lavoro. Noi non taglieremo nessun servizio sociale, noi non lasceremo a casa nessuno se non le persone che non hanno voglia di fare, che appendono l'abito, fissano. Se qualcuno c'è, se qualcuno c'è che si approfitta della cosa pubblica, non mi voti. Se qualcuno c'è che non vuole razionalizzare il comune, se c'è qualcuno che ancora pensa che le cose vadano avanti così in eterno, non mi voti. Non devo essere votato per forza, non è un mio problema diventare sindaco, è la città che ha bisogno di un progetto strategico. Io ve lo accenno proprio in due parole ma per farvi capire. Io sono andato tanti anni fa a Boston assieme all'architetto di Mambro, ma prima di diventare presidente di Confindustria, sono andato a vedere l'esempio di Boston, una città che assomiglia molto per certi versi alla situazione di Venezia. Per Venezia quando parlo di Venezia io parlo di tutta la nostra città, perché ho un disegno di città metropolitana, l'ho sempre detto, sono convinto di questo e se vogliamo competere nel mondo noi dobbiamo alzare la testa, dobbiamo essere orgogliosi di essere veneziani, non vergognarci di essere veneziani. Dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo tornare a essere orgogliosi, perché quando prendiamo l'aereo noi dobbiamo aiutare chi ci aiuta, ci aiuta a essere connessi col mondo, dobbiamo aiutare le nostre strade, chi si occupa delle strade, chi si occupa dell'aeroporto, del porto, delle industrie, delle fabbriche e adesso arrivo a Boston delle università. Il grande progetto che ho in mente per Venezia è un grande progetto di education, dobbiamo investire tantissimo sulle università, dobbiamo attirare qui studenti da tutta Europa, dobbiamo rilanciare le aree di Porto Marghera, dobbiamo far sì che un commerciante, un artigiano, un imprenditore, una partita IVA, chiunque voglia intraprendere un giovane a Venezio la possa fare, lo deve fare. Non dobbiamo fermarci a polemiche di ogni genere, ognuno presenterà la sua ricetta, io la ricetta del blocco non ci sto, io tifo perché il Mose funzioni e se funziona lo venderemo ai cinesi, ai giapponesi, ai coreani, dobbiamo tifare che funziona, quando l'hanno fatto io ero bambino, ma non possiamo buttare via anche le cose positive che sono state fatte, buttiamo via i ladroni, buttiamo via i furbi, buttiamo via gli incapaci, ed è pieno, è peggio quasi un incapace di un ladro spesso, buttiamoli via tutti e due e così non facciamo. I partiti non mi hanno condizionato, non mi diranno niente, sì, sono andato a Roma, ho citato, ho visto tanta gente e continuerò a vederne, Venezia deve tornare al centro dei pensieri di tutti gli nostri amici veneziani, qualsiasi parte siano, non c'è parte, c'è Venezia e Venezia deve tornare capoluogo, caposaldo di una grande città metropolitana, di una grande Veneto, è Venezia il Veneto, Venezia, è qui il passaggio, è qui facciamo la storia, noi non abbiamo più coraggio, dobbiamo tirar fuori gli attributi, dobbiamo farlo per i nostri figli, per i nostri nipoti, voi non avete bisogno, sono i ragazzi che non hanno il lavoro, un grande progetto di education, ripartire dalle scuole, dalle associazioni sportive, nessuno parla dello sport, c'è gente che lavora nello sport, tra la mattina e la sera per togliere i ragazzi dalla strada, il tema della sicurezza, scusate, il tema della sicurezza lo risolviamo, se mettiamo un progetto strategico insieme, non risolviamo un pezzo alla volta, la delega la sicurezza, lo dico per dire, che penso mi, me la sicurezza, ma prima bisogna dare anche il lavoro alle persone, bisogna tirar su, bisogna tirar su l'economia perché con la povertà ce li troviamo dentro le case, dobbiamo immaginare che ci sia un grande rilancio economico, dobbiamo attirare gli investimenti in questo posto, dobbiamo semplificare la burocrazia, dobbiamo semplificare i tempi, dare certezza degli investimenti, dobbiamo dare certezza agli investimenti, quando è stata fatta la marittima io non c'ero, sono state fatte delle cose davanti agli occhi di tutti quelli che oggi si stracciano le vesti, dobbiamo mantenere gli accordi perché sennò qui a investire non viene nessuno, quando si fanno gli accordi si fanno e si rispettano, lo farò io anche negli accordi precedenti, io non straccio le cose, ai dipendenti comunali dico se dentro, come mia mamma è insegnante elementare, portava i miei giocattoli a scuola, ci sono persone meravigliose nella pubblica amministrazione, meravigliose, dobbiamo valorizzarle, allora avremo il consenso sociale per poter andare a dare quello che fa il fanullone o fa il furbetto, perché ha la tessera di partito, se qualcuno pensa con la tessera di partito o di salvarsi di qualsiasi partito o area politica o sociale, con me se lo scorda, se lo scorda, per me un medico non me ne frega niente di chi è figlio, deve essere bravo, deve essere bravo, dobbiamo tornare al talento, dobbiamo tornare a fare le piccole cose, dobbiamo occuparci delle piccole cose e delle grandi cose, dentro un grande progetto ci sta anche il piccolo intervento, poi ci sarà la sicurezza, la sicurezza è una cosa importante, perché fa rima con libertà, fa rima con la libertà della donna di fare la spesa, fa rima con la libertà di un commerciante di aprire la sala cinesca e non trovarsi i vigili che fanno le multe e magari non trovarsi i clienti perché c'è qualcuno che li disturba, la libertà è una cosa che ci siamo conquistati con anni e battaglie, morti si sono stati qui, la Repubblica Veneta è stata uccisa da due guerre mondiali, ma noi dobbiamo tornare a essere orgogliosi di quel passato, era un passato di integrazione culturale, di rispetto delle persone, di rispetto di chiunque viene a Venezia, noi dobbiamo essere rispettosi di quelle persone, via tutti gli oltransismi, via tutti i razzismi, via tutte le divisioni, però sì al diritto, sì alla legge, la cambiamo ma finché c'è c'è, il controllo sociale del territorio è fondamentale, le telecamere, certo, dappertutto, dove si può? Il centro che circoli, ci metteremo, studieremo i singoli progetti, ma le cose devono essere fatte assieme, assieme, nessuno deve sentirci fuori, ci deve stare il gondoliere, ci sta il trasportatore, ci sta il tassista, ci sta l'operatore dell'albergo, ci stanno anche i lavoratori, non possiamo intasare tutto senza un progetto, dobbiamo fare la famosa SMFR che funzioni, bisogna metterci i treni, dobbiamo far passare la TAV, sì, e dobbiamo farla fermare a Mestre, perché il rilancio della città sarà a Sumestre, qui, a Mestre, a Marghera, questa è la città, dobbiamo ricordarci che qui da noi c'è un paese che si chiama Trivignano, un altro che si chiama Pellestrina o San Piero in volta e ci dimentichiamo che esistono, questi di notte non sanno come uscire da casa loro, dobbiamo dare una mano perché tutto sia connesso e poi già che ci siamo ricordiamoci, questo sindaco diventa anche il sindaco di una città metropolitana, io ho fatto battaglie in confindustria con le categorie perché venisse fatta la città metropolitana, poi diciamo la verità, il disegno di legge non l'ho scritto io, non l'ho voluto, non l'ho fatto come l'avrei voluto io, lotterò perché tutti i cittadini della città metropolitana possono votare, si vota perché tutti devono poter esprimere il sindaco, non che lo nomina il comune di Venezia, noi in questa città dobbiamo diventare generosi, aperti, solidali con Spinea, con Mirano, con la Riviera del Brenta, sono le nostre persone, i nostri familiari, siamo assieme, siamo veneziani e in giro per il mondo con orgoglio torneremo a dire siamo di Venezia, quale? Quella Venezia che si sta muovendo come Berlino, come Miami, questi grandi posti dove la gente può fare, a Bostro in questa situazione hanno deciso di portare sull'università e sulla scuola, non soltanto su Ca' Foscari, anche sullo UAB, sull'Istituto di Università di Architettura, un'università fantastica, una delle più belle e più importanti del mondo e non lo sappiamo, sul conservatorio che nessuno sono lì che mendicano gli aiuti poveracci, sul conservatorio, sulla musica, sullo sport, cose che vanno avanti solo con la solidarietà generosa di tante persone, di ogni bandiera politica, non c'è il buono e il cattivo, o meglio c'era per tutti e tutti gli schieramenti, qui è un progetto civico, siamo ridotti all'osso, i mutande ci hanno lasciato, questi vent'anni di rinfa di rinfa, di burga, di cosa, con cose positive e cose negative, buttiamo via le cose negative, prima di tutto la tristezza, la rassegnazione, la vergogna, noi ci stiamo vergognando di quello che è successo e lo sapete nel cuore, non possiamo più vergognarci, dobbiamo alzare la testa, scendere dall'albero, io sto scendendo dall'albero, mi metto a vostra disposizione col cuore, farò errori sicuramente, non voglio offendere nessuno, non ho intenzione di cadere nessun tipo di provocazione assurda, inutile, in questo momento abbiamo bisogno di coesione sociale, non di divisione sociale, ecco questo è il motivo per cui io mi candido a sindaco di Venezia. applausi mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante, che è anche il motivo per cui ho voluto che questa conferenza stampa fosse aperta, ecco si sappia, poi io lo dirò in tutti i modi possibili, veramente lo dico col cuore, chiunque da un ragazzino a una persona molto anziana, a un ex lavoratore, a un insegnante, a chiunque, mi scriva, chiamatemi, c'è posto veramente per tutti, cioè non chiederò niente a nessuno la storia, dove vieni, chi sei, gli chiederò soltanto che idee hai, come ci puoi aiutare, solo questo, per cui è un appello accurato perché da soli non ce la possiamo fare, ma io voglio stare, e lo dico chiaramente, lontano dai partiti, lontanissimo dai partiti, cercheranno in tutti i modi di avvicinarmi ai partiti, fanno le fotografie, le cose, ho relazioni, certo che ho relazioni, sono stato fino a ieri, a questo punto a ieri sera, presidente, direttivo di Confindustria Roma, sono stato in Confindustria nazionale, ho firmato accordi nazionali, è vero, Venezia ha ancora degli amici per fortuna nel mondo, e per fortuna non ci sono solo io, ci sono tanti dirigenti di istituzioni, di aziende, figli vostri che lavorano nel mondo, anche a Londra, dobbiamo chiamarli tutti, che ci diano una mano, abbiamo bisogno di una mano tutti quanti, perché un accorato appello, se non potete venire noi, avete lavoro, mandate qualcuno, fatelo venire, noi ci daremo da fare, io sarò a tempo pieno, e il mio ufficio sarà a Mestre, io lavorerò a Mestre, lavorerò a Zellarino, lavorerò a Marghera, perché mi viene più comodo, perché abito qui vicino, è questo il mio territorio, a Caffarsetti lo useremo come luogo di rappresentanza, faremo il consiglio comunale, distribuiremo queste azioni, al Lido, dobbiamo far tornare, il glamour al Lido, il glamour, quando io ero piccolo andavamo al Lido, noi non avevamo soldi, andavamo dopo a piedi, fino in fondo all'ospedale al mare, perché avevamo la cabinetta lì, e c'era invece chi aveva la capanna, ma a me, a casa mia, mio papà, figlio di operaio, non mi ha mai insegnato l'invidia, mai, mai, ha sempre lottato per le sue idee trasparenti, ci ha messo sempre la faccia, poveraccio, ha preso un sacco di botte per le sue idee, e a quel tempo aveva anche ragione, tanti riservatamente glielo dicono anche, il problema è che non basta avere ragione, adesso bisogna comandare, la differenza tra me e lui è che io adesso voglio cambiarla a sta città, dovete darmi una mano. Allora, adesso apriamo lo spazio per le domande dei colleghi giornalisti, da chi partiamo? se mi fate un cenno vi do il microfono, così si sente Mitya Chiarin, della Nuova Venezia buongiorno buongiorno la prima domanda che le volevo fare è questa dell'avversario indicato dalle primarie del partito democratico del centro-sinistra Felice Casson, lei cosa pensa? Si è detto in queste settimane mentre si attendeva che lei decidesse se candidarsi o meno che lei sarebbe stato l'anti-Casson, è vero oppure no? No Io ho massimo rispetto di un candidato, di chiunque persona che trovo per strada figuriamoci se no di un ex magistrato e procuratore della Repubblica il suo, lo schieramento che lo sostiene, diciamo chiamiamolo il polo rosso-verdi dei centri sociali, di fondazione comunista, quella gente là io ho il massimo rispetto, sono idee, sono idee legittime che vengono da una storia lontana ed è anche lontanissima dalla mia Prima hai, Francesco Bottazzo dal Corriere, Veneto Prima hai parlato di conflitti di interesse dicendo che non ho conflitti di interesse Poi posso darti del tuo anch'io? No, nel senso che non Visto che ce lo diamo sempre Parlavo di conflitti di interesse, c'è già qualche candidato che comincia a dire Brugnaro ha troppi conflitti di interesse, come può fare il sindaco di Venezia la misericordia, i pili, il palazzetto, eccetera, eccetera A come rispondi? Bene, allora a questa domanda rispondo così Chiunque fa qualcosa ha degli interessi Chi non fa niente interessi non ne ha Allora i miei interessi su Venezia Che adesso dico anche cosa voglio fare Sono questi Ho comperato a un'asta pubblica dello Stato Ancora sei anni fa 44 ettari di terra che sono stati venduti dallo Stato italiano E io perché non finissero in mano di qualche speculatore milanese o romano Li ho comprati E li ho gestiti e li gestirò quando avrò finito di fare il sindaco Per quanto mi riguarda In quei terreni, spiace per il lavoro, per le prospettive di occupazione, per gli investimenti Non farò nulla Mi direte voi se dovrò o no regalare Perché di questo si parla Regalare una striscia di terra Che il comune per due anni mi sta chiedendo di dargli E che per due anni gli dico che va bene Solo che devono organizzarsi per dire di sì o di no Ho già anche pagato il progetto Perché il comune non ce l'aveva Per poter regalare Un certo chilometro o due chilometri Per fare la pista ciclabile Perché secondo me è una vergogna Che con la bicicletta non si possa andare a Venezia Se questo posso farlo, se me lo autorizzate, lo farò Per il resto, nelle mie terre, nelle mie aree Dove ci ho messo i miei soldi E dove ho impedito che arrivassero i soliti noti da fuori Non farò nulla Perché è giusto, sarebbe un conflitto di interesse Per cui questo lo chiariamo subito, molto chiaro Seconda cosa, poveglia, anzi facciamo misericordia Misericordia, un luogo che chi è di Venezia Più centro storico, chi è più appassionato di sport sa Che era il luogo simbolo dove la Reier giocava Attenzione a queste cose spesso I giornalisti un po' maliziosetti Lo sanno benissimo Ma non le raccontano Adesso le racconterò tutte E ho addirittura, pensate 60 giorni per scaricare tutto quello che ho nel gruppo E ne ho tanto che non avete idea Tanta roba Falsi Guardate C'è a livello di comunicazione C'è una falsità su questa città Una cappa di omertà e di mafiosità Che dobbiamo scoperchiare Anche fosse solo per questo Comunque Continuando a parlare degli affari miei Che per cui fino a oggi non erano in conflitto di interessi E potevo farlo Vi racconto cosa ho fatto sulla misericordia Nota che non l'ho mai dichiarato Perché ci dice che quando si fa del bene Non lo si dovrebbe dire Si aspetterebbe che siano gli altri a riconoscertelo Beh, qui non è mai successo Com'è cambierà? Com'è una persona che sa fare bene il pane Riceverà i complimenti in municipio? Una persona che lavora 50 anni Umanamente a fare le barche Riceverà un complimento Riceverà una medaglia Lo porteremo Ritorneremo con l'idea di maestri Delle persone che sanno fare il proprio lavoro Ritorniamo a riconoscere il talento che c'è vicino a noi Misericordia Prendo la Reier Molti anni fa E ovviamente qualcuno dirà Con un piano strategico per diventare sindaco Difatti 12 anni fa o 13 anni fa Ho preso il femminile Che era in una categoria E abbiamo continuato a spendere i soldi sopra Con pubblicità praticamente prossima allo zero E poi mi sono preso anche il maschile Perché ho pensato che era meglio Per aumentare la comunicazione E c'erano 12 tifosi quella volta Io e la Stefania ci siamo messi in prima fila E da allora nessuno ci credeva Devo dire neanche alcuni tifosi Mi scrivevano Addirittura la causa che ho fatto io da solo Con la federazione Mi detto non farla Perché poi ti fischiano tutto contro No a Venezia Io non mollo niente Non mollo niente Perché era un nostro diritto E ci siamo andati E adesso il tagliercio è pieno Ho ristrutturato il tagliercio Scusate fra parentesi 1.500.000 euro di soldi privati Cioè miei Dati a una struttura pubblica Perché pubblica resta Per spenderci comunque sopra Tanto per fare qualcosa 8 milioni all'anno Secondo voi È un conflitto di interesse? No perché se volete Io posso anche dismettere Ma questo non lo faccio Se no dopo la gente non mi vota più Perché se dico che lascio la Reier La gente non mi vota più Perché la Reier è il nostro orgoglio È la nostra vita È la nostra storia Non la mollo la Reier Sarà anche un conflitto di interessi Siccome alla misericordia Giocava la Reier È successo che un'accordata Di costruttori Di persone Hanno proposto un progetto di finanza Si chiama così Cioè i privati Ristrutturano Pagando dei soldi Un bene pubblico E lo tengono in gestione Per un certo numero di anni Quando ho saputo Che c'era questa operazione in corso Ho chiesto All'allora sindaco Cacciari Di poter entrare In questa operazione Perché ho detto Ho diritto di essere Almeno presente Ha consentito Persona che ama questa città Massimo Cacciari La adorava prima E continua ad amarla adesso Vediamo di non fare sempre I soliti dimenticoni Una persona che ha fatto il sindaco Per tre legislature Non l'ho votato soltanto io Probabilmente l'ha votato Anche qualcuno di voi Perché cerchiamo di omaggiare Le persone che sono state È il passato Ma il passato va anche rispettato Come rispettiamo i monumenti Cerchiamo di rispettare anche le persone Tanto per cominciare Comunque Sono entrato in questa compagine Con una quota di minoranza Di questo progetto di finanza Perché ho detto Voi costruite e sistemate Poi la tengo in gestione Perché la casa della Reie Non deve essere data a nessuno È successa la crisi economica E questi costruttori Passo passo Sono falliti E io passo passo Avendo la prelazione Essendo socio Ho comperato anche le loro quote Perché questo bene Venisse finalmente ristrutturato E chiuso da trent'anni No tre Trent'anni Qualcuno qui Non l'hanno anche mai visto Non c'era Quando hanno cominciato a chiuderlo Ok E tutti erano alla misericordia No I vostri nonni Qualcuno da piccolo Con i genitori Bene Non è un conflitto di interessi Perché l'ho finita Il comune doveva darmi Nella gara Era previsto che mi desse Una fideiussione Per fare un mutuo A spese mie Garantito da me Pagato da me Nella gara Era scritta questa cosa Non l'ho scritta io La gara Il comune non me l'ha mai voluto dare Perché qualcuno Imbrogliando Ha detto delle cose false Delle cose assolutamente ignobili E io non ho ricevuto La fideiussione Forse qualcuno Togliamo pure il forse Sperava che io Restituissi il bene Perché il progetto Di qualche intelligentone Che pensa che Essere liberi Essere aperti Vuol dire casa Tutti quanti Volevano fare un progetto Della cultura araba E io gli ho detto Ti vado a passare Mess'ora del mio Il progetto Sulla misericordia Della cultura araba E gli ho risposto Proprio così Allora sapete Cosa ho fatto Sono andato in banca E mi sono pagato I soldi miei Perché il mutuo Non potevo farlo Con soldi miei contanti Ho pagato Il restauro Della misericordia 10 milioni di euro Ed è finito Fra qualche Due mesi Un mese e mezzo Lo inauguriamo Finito il conflitto D'interesse Sulla misericordia Parliamo della cosa Più scottante Più frizzante L'isola di Poveglia Me la faccio da solo La domanda Qua mi alzo Perché Adesso mi sfogo L'isola di Poveglia No Domani c'è la regata Per cui Massimo rispetto Alle persone Che hanno aderito All'associazione Poveglia Sia chiaro Massimo rispetto Tanti erano E sono ancora amici miei Non c'entra nulla Con le persone Che hanno aderito Alla sottoscrizione E' stata fatta Una gara pubblica Ma se Questo sistema Non va bene Qualcuno mi consigli Che che altre Organizzazioni Per affidare le cose Ci devono essere Gara pubblica Io leggo la gara Perché a differenza Di altri Io lavoro Invece che Blaterale Perché poi Quando è il momento Non c'è mai nessuno Solo bla 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 Perché i soldini Come la cicala Se li spendono Io faccio la formichina Lavoro e metto da parte Lavoro e metto da parte E investo sulle mie aziende Sul mio lavoro Questo è il motivo Perché sono riuscito A metterla da parte E questo comune Forse deve riprendere Da quelli che lavorano Che sanno la difficoltà Che spendono i soldi Quando ce li hanno Che fanno i passi Con le loro gambe E così si è liberi E nessuno ti può Chiedere niente Vedo questa gara E dico Partecipo Alla Conquista Di quest'isola La gara È una concessione Per 99 anni Dell'uso dell'isola Il perché È la stessa ragione Per cui Si è mobilitata Tutta questa gente Dell'associazione Poveglia Perché Perché non vogliamo Un altro albergo E perché Correttamente Che condivido pienamente Non vogliamo un uso privato E chiuso di queste isole Perché l'uso di queste isole Deve essere ancora aperto Alla cittadinanza Troppe abbiamo visto Di queste cose Che si fanno I grandi discorsi E poi alla fine Guardate anche L'ospedale a mare Il buco del Lido Grandi progetti Poi restano tutti là E anche qua a Mestre Io sono per sbloccarli tutti E li sblocchiamo Veo garantisso Questo vale Forse l'ultima cosa che faccio Sblocchiamo tutti Tutti Voi camminate E fate ancora tempo a vederli Fate ancora tempo a vederli Allora Andiamo al Demanio Il Demanio fa una riunione pubblica E noi ci presentiamo Alla riunione Di spiegazione Di come si svolge la gara Perché volevamo capire Ci siamo presentati E i giornalisti Lo sanno benissimo Con il nostro nome e cognome Siamo andati là A nome di umana Nessun Mr. X Siamo presentati Alla riunione Con il nostro nome e cognome Abbiamo chiesto informazioni Come hanno fatto altri Sono arrivati anche gli americani Perché Facendo tutta questa cagnara Sui giornali E su internet Giustamente Anche gli americani leggono Il New York Times Sì È venuto Ma è Barra La filiale immobiliare Madonna Stavo dicendo una cosa Che non devo dire Mi hanno detto Che non devo offendere a nessuno Cioè Il mondo Ci guarda E legge E se tu gli dici Che è un'occasione Arrivano Ma arrivano le cavallette Arrivano quelli cattivi Non è che arrivano i buoni Non è che perché uno è straniero È buono Non è vero Siamo in una competizione globale Competizione globale Quello che resta qua è qua Le navi da crociera nostre Non ce le deve toccare nessuno Sono nostre C'è roba nostra È il lavoro delle persone Dobbiamo sistemare le cose Ma dobbiamo tenercene qua Svegliamoci Ci sono gruppi enormi Che vogliono portarci via le cose Ci sono interessi incredibili Nazionali e internazionali Comunque facciamo questa riunione Ve la faccio breve Facciamo la riunione Ci dicono Guardate Il prezzo L'asta Parte da zero lire Il demanio La proprietà Così lo precisiamo La città È del demanio Attenzione Cosa interessante E sfiziosa È che Quell'isola È stata proposta Anni prima Un anno Due anni prima Alla prelazione Del comune Dell'amministrazione Comunale Di cui maggioranza Dico Qualcuno non è estraneo Di quelli che si candidano Ed è stata Rifiutata La prelazione Per quello poi Il bene viene messo All'asta È chiaro? Solo che c'è un piccolo Particolare Che nessuno ha voluto raccontare L'ho detto in tutte le salse Che nell'asta Nel bando di gara Che tu devi accettare E firmare col sangue E viene riportato Nel poi affidamento A giudicatario Dal notaio Che ti viene data L'isola Viene scritto Che tu devi essere Devi accettare Le prescrizioni Di tre sovraintendenze Perché Quell'isola Oltre ad essere Meravigliola Sono circa Sette ettere di terra Era il luogo Come voi sapete Dove si fermavano Gli equipaggi Prima di entrare in città Per verificare Che fossero sani Eccetera Per cui c'era Già una funzionalità medica Poi nel tempo È diventato anche Un ospedale psichiatrico Anche Non solo Anche Però questa idea Di quest'isola sanitaria A me aveva fatto venire L'idea Personalmente Di proporre un progetto Per fare Un ospedale Per ragazzine Bambine Ragazzine Che soffrono Di disturbi alimentari È un'epidemia Credetemi Chi ne soffre Purtroppo lo sa E sono problemi Di natura psichiatrica Sono disaffezioni Sono disturbi alimentari Sono il problema Della anoressia Della bulimia Una cosa Che è una piaga In Canada In Stati Uniti È molto più diffusa di qua Ma anche qua Si toccano Un'umida paura Tanto è vero Che sono stato contattato Da medici Da primari Di ogni parte del mondo Dicendo che era Una bellissima iniziativa L'idea era quella Di fare un campus Per questi ragazzi Aprire L'idea che avevo io Aprire un grande Orto botanico Aprire Ci sono là Dei fruttetti Che potevano essere in piedi Messi in piedi Di nuovo Vecchi Antichi Dei rosetti Dove i ragazzi Potevano Diciamo lavorare Perché per recuperare Queste malattie Bisogna farli lavorare Pensavo anche Di fare un luogo Dove potessero arrivare I giovani artisti Che non avevano soldi Quelli che lavorano Con la biennale Con il conservatorio Eccetera L'università Che potessero In qualche modo Creare un clima Di socializzazione E di rapporto Con queste persone Magari più in difficoltà Diventava un luogo Giovanile Dove si poteva anche stare Per periodi brevi O lunghi E però Nella gara stessa Era precisato Che il bene Doveva restare pubblico C'erano anche gli orari Eccetera In più veniva aperto Nel mio progetto Nella mia idea Tutto un percorso Addirittura di cinta Dove addirittura Avevamo immaginato Di scavare Diciamo sul bordo Mettendo del vetro Per vedere anche Tutta la fauna E la frola ittica Della laguna Un progetto Che avrebbe dato Posti di lavoro Circa 200 posti di lavoro Allora Ho presentato Abbiamo chiesto I chiarimenti Abbiamo fatto L'offerta In busta chiusa E ci hanno detto Guardate che voi Oltre che offrire I soldi per l'isola Dovete accettare La condizione Di ristrutturare Tutti gli edifici La condizione Che veniva messa Dal notaio Poi Allo giudicatario È che chi Si assegnava l'isola Per cui anche a un euro Si prendeva un mutuo Cioè un debito Che noi abbiamo stimato Noi Per fare la ristrutturazione Con tre vincoli Archeologico Lì c'è un parco Archeologico Dove qualcuno vuole Continuare a fare la pipì È inaccettabile questa cosa Cioè siamo rispettosi Anche delle cose Della verità Secondo Devi ristrutturare Gli edifici Con i vincoli Della sovraintendenza Architettonica Ambientale Non robetta Noi abbiamo fatto un conto Che ci vogliono Circa 40 milioni di euro Per fare l'intera operazione Per cui devi averceli E noi avevamo fatto Questo progetto Se tu Non finivi i lavori Scritto nella gara Vi invito per favore Per amore di verità Andarlo a vedere Se non li finivi Entro dieci anni Quello che avevi fatto Ti veniva confiscato tutto E tornava tutto Nei beni dello Stato Io avevo accettato Una condizione folle Del genere Per cui adesso Con questa mia candidatura A sindaco E con l'ovvio Conflitto di interessi Dico Che ritirerò Allora Ho vinto la gara Ho fatto la busta Noi abbiamo offerto 500 mila euro E si è presentata Soltanto Anzi Due cordate Una che aveva sbagliato L'offerta E l'hanno scartata La seconda cordata Mi pare che abbia offerto 350 mila Adesso non voglio sbagliare La cifra Circa Più o meno A quel punto Queste due offerte Sono state messe in gara Per cui il demanio Ha bandito la gara Non ha detto È troppo poco Perché dietro a questa offerta C'erano anche I 40 milioni I 20 milioni Dopo uno può mettere Le cifre che vuole Noi abbiamo fatto questo conto qua La messa in gara Ha aperto la gara Una gara elettronica Noi ci siamo presentati Ci hanno dato un codice di gara Non si può fare una gara Con nome e cognome Perché se no È turbativa d'asta Tutte le dichiarazioni Tutte fatte sui giornali Sono illegali È turbativa d'asta Perché così scapi E fai scappare gli investitori Non puoi raccontare così Non è corretto Se vogliamo fare un discorso di correttezza Noi siamo stati al gioco Ci siamo mossi Correttamente Siamo persone oneste Questa è la novità La grande novità È che siamo persone per bene Purtroppo Comunque Abbiamo fatto la gara Abbiamo ovviamente L'asta è partita Dalla nostra prima offerta In busta chiusa L'altra accordata Non ha rilanciato Se no noi avremmo Continuato a rilanciare Non ha rilanciato E è stata aggiudicata A 513 mila euro Che era il numero Che avevamo messo all'inizio Il 13 perché mi porta a fortuna Speriamo che si vada a votare Il 31 Così sono proprio a posto No per dire Bene A quel punto là Il demanio ha ritenuto Ha fatto le sue valutazioni Ha fatto una riunione Hanno fatto gli atti E hanno ritenuto Che l'offerta Di giudicare l'offerta Non congrua Per cui non hanno proceduto All'assegnazione Non mi hanno assegnato L'isola Noi abbiamo fatto Un accesso agli atti È una cosa legale Si può fare È una cosa che si può fare È legale E ci hanno dato gli atti Abbiamo letto gli atti Adesso non ve li racconto Perché questi fanno parte Di una causa Abbiamo ritenuto Quegli atti Poi andatevi a vedervi Ci sono chi ha le deleghe Al demanio Sempre solite robe politiche Perché così si prendono voti E vi fa capire Quanto bravo sono A fare il candidato sindaco Io Che se avevo il piano Di fare il candidato sindaco Forse queste robe Non davo a impiantarmi su Per cui vuol dire Che forse Per l'ennesima volta La dimostrazione poveglia Che sono una persona onesta Semplicemente Una persona onesta Abbiamo ritenuto Che questa roba qua Non fosse legittima Dal nostro punto di vista Abbiamo guardato E abbiamo contestato Al TAR Abbiamo chiesto Al Tribunale Regionale Amministrativo Caro Tribunale Questi sono gli atti Ti sembra che rispettino La legge? Punto Questo abbiamo fatto A oggi Oggi sono qua a dire Siccome evidentemente Mi sto candidando A sindaco di Venezia Io Questo progetto Questo ospedale Tutti questi soldi E questo investimento Non lo faccio più Né in un modo Né nell'altro E a chi Ha fatto Tutta sta bagarre E domani Durante questa regata Sappiano I cittadini onesti Ed è tantissimi amici miei Che stanno avvocando Si ricordino Che adesso La responsabilità Di questa cosa Resterà a loro Adesso io Vigilerò Come sindaco Che chiunque venga Per fare accordi Per fare convenzioni Per fare qualsiasi cosa Perché io non ci sarò più È un giuramento solenne qui La toglierò questa causa E l'isola avrà il destino Che ci mediterà Ahimè Però per me Non posso più farci niente Io ho tentato di bloccare E di salvare l'isola E per forza di cose Giustamente Se non sarei attaccato Di conflitto di interesse L'ho capito E benissimo Per quanto mi riguarda Quel progetto È chiuso Come è stato L'ospedale di Corbusier Questo è l'ennesimo Ospedale che Vuol dire che L'ospedale non porta bene A Venezia Dobbiamo fare discoteche Forse il piano bar E i baretti Quelli funzionano di più Probabilmente Perché certa gente Vive di baretti Di cicchetti Non possiamo vivere A baretti e cicchetti A far festa Perché io alla mattina Mi alzo ai sie E che se qualche dunque Vuoi anche a dormire Magari Forse questa città Forse questa città Dovrebbe ricominciare Un po' anche Dalle persone che lavorano Perché sentirmi dire Che sono anche Puntini puntini Perché vado a lavorare Perché sono un fanatico Del lavoro Ma scusate Non faccio niente a nessuno Guadagno i miei soldi Correttamente Ho sempre pagato Una montagna di tassi Ho una barca Lo diciamo così Se c'è un conflitto di interesse Non so Ho sempre battuto Bandiera italiana Sempre Penso l'unico matto Che ha comprato la barca In Italia Ancora 15 anni fa E avevo già un piano Per diventare sindaco di Venezia Giusto E l'ho pagato tutta l'IVA Io sono uno che ha pagato tutto Quando giri così Tante barche De scampare A mia sedà Io giro con 7,40 in macchina Non c'è problema Fatemi le pulci Di quello che volete Sapete cos'è? Che il lavoro non ne sta Deve vincere Deve vincere E prima o dopo Qualcuno lo dirà Mia mamma ha detto Male non fare Paura non avere Ricordiamocelo Venezia Era così Altre domande? Buongiorno Sono Monica Zicchiero Il Corriere del Veneto Le volevo chiedere qualcosa A proposito della sua squadra Buongiorno Perché ho visto tanti Occhi lucidi E commozione Alla fine del suo primo discorso Mi è venuto di pensare Che qualcuno La potesse Aiutare In questa avventura O entrare in lista Con lei Ci vuole dire qualcosa? Beh Questa è una domanda Che si allarga Si attacca Al mio appello Io Sinceramente Non ho nessuna squadra Cioè nel senso Ho tanti amici Sono conosciuto È vero Ma la squadra Di tutta la città Non è soltanto mia La squadra Di tutta la città E credo che sia Anzi invitiamo tutti A venire Qui non è mai venuto Sappiate che per noi È un orgoglio Cioè questo orgoglio Resterà E resterà Super partes Ecco Un altro appunto Ve lo dico Credetemi Se sbaglio qualcosa Fatemelo pure presente Io non userò mai La Reier Per fare campagna elettorale Ringrazio Ho letto oggi Il segretario Rosteghin Ha detto Io ti ferò Reier Perché mi chiedo Lo scudetto E gioco per un'altra squadra Ecco Io sappia Che avrà lo stesso rispetto Da me Sera sempre ben invitato Chiunque Mai usare le cose Per proprio fine personale Non lo farò mai Non lo farò mai Non è il mio stile E non ci sarà mai Nessun tipo di ricatto Se non faccio Assolutamente Io mi metto a disposizione E spero che mi salutiate oggi Come mi salutate anche fra due mesi Io voglio essere onesto Voglio giocare pulito Dico soltanto Che ho un progetto diverso È semplicemente diverso E credo E sono convinto Straconvinto Che convenga la città Sono convinto Che convenga la città Mi piace molto Il programma di Pellicani Mi piace molto Il lavoro che ha fatto Umana è socio Della fondazione Pellicani Non so se dovrò uscire Anche da lì Non so Io ho cercato sempre Di aiutarla a sta città Adesso mi direte Se le operazioni di bene Non le ho dette Non le dico neanche adesso Se per caso verranno fuori Sappiate che non era A fine politico Sono cose che noi facciamo Quotidianamente Per i bambini Per gli ammalati Per gli ospedali E scusi Devo rispondere alla domanda Sì sì Scusi No Sulla squadra No io non ho pensato Assolutamente a nulla Guardi Io stanotte ancora Mi sono rigirato nel letto Perché avevo un comitato Con il presidente Assolutamente a Ferreo Che da più di mesi Che mi dice Di non fare niente Cioè il comitato Era veramente grosso Non so neanche Se si è sciolto Cioè il comitato No Luigi sindaco Perché mi faccio male Tutti mi hanno detto Io ringrazio gli amici Che me l'hanno suggerito Mi hanno raccomandato Di non farlo Capisco tutto E credo che sia anche Il loro cuore sincero Di farlo Io rispondo Alla mia coscienza Prima di tutto Alla mia coscienza Non ho nessun accordo Purtroppo Non ho fatto tempo Neanche a parlare Perché ho cercato Ho cercato di non fare niente Cioè proprio niente E sono riuscito a stare Sui giornali Tutto il giorno Con già anche accuse Rimproveri Sollecitazioni Fa parte del gioco Non sono un verginello Ho lavorato su altro Giocherò Al gioco mio però Il mio gioco è Le alleanze sono Con i cittadini Se vinco vinco Se perdo perdo Non ci sarà Non sarà Non sarà grigio Sarà molto chiaro Le cose che dirò Saranno molto chiare Le capiranno tutti Si capisce che non sono un politico Capirò Capirete tutti Ci saranno delle cose Che vi andranno bene Altre meno Scegliete voi Nel segreto dell'urna E con convinzione Resteremo comunque amici Con tutti Cioè nessuno sarà Tirato Richiesto Da parte mia ovviamente Se non sente Un afflatto civico Scendiamo dall'albero Per una volta Solo questi cinque anni Poi lasciamo Una classe di politici Giovani Che tireremo su Magari anche Nelle file della re Di ragazzi che fanno sport Che credono nel talento L'altro giorno Abbiamo vinto L'Adriatic League Che al maggior parte di voi Forse non dice niente È una coppa adriatica Che giocano le donne Le donne sono Uno degli obiettivi Le donne sono Quelle persone Che mandano avanti La mia azienda Probabilmente la mia vita E che sono convinto Che dobbiamo difendere tutti No con la celtroneria Del discorso soltanto Della sicurezza stradale Per strada deve esserci Allora arriva il poveraccio Certo Ma quelle sono cose facili da dire Le donne sono La violenza sulle donne L'arroganza sulle donne La mancanza di rispetto Sulle donne Quando non hanno Quando viene Quando viene mancato loro Il diritto della maternità E non sanno come fare Perché non ci sono gli asili nido Perché i servizi sociali Con 37 milioni di spesa Ancora possono essere migliorati Su questo fronte qua Perché l'attrazione Degli investimenti E anche se riusciamo A rendere Una città Vivibile alle persone I giovani che non trovano lavoro Non sono soltanto loro Incapaci di trovarlo Il lavoro A Marghera Non c'è È stato chiuso tutto L'altro giorno La Corte di Giustizia Europea Ha dichiarato Definitivamente Che le bonifiche Possono essere fatte Non sono obbligatorie Per chi non ha inquinato Per troppi anni Abbiamo lavorato su questo Mio papà Ha lavorato a Porto Marghera Mio papà Ha combattuto Contro chi ha inquinato Contro chi ha ammalato la gente Ma erano altri tempi Stiamo parlando Di un altro secolo Oggi la manifattura L'industria È un'altra roba Dobbiamo credere Nella manifattura Dobbiamo ancora Aver fiducia su questo Saranno imprese diverse Fabbriche diverse Dobbiamo pensare Alla multimedialità Come una grande scommessa Cioè Il commercio ormai Viaggia sulla rete Dobbiamo chiedere a Telecom Ma lo facciamo Se è una città metropolitana Sia grande Siamo grossi Dobbiamo avere tanti amici Dobbiamo imporli Di mettere la fibra ottica Ad alta velocità In tutte le case Da città metropolitana Dici Ma che vantaggio ho io Da Spine a entrare In città metropolitana Che Venezia Ti ha consentito di farlo E Venezia Che è generosa Che è sempre stata Una città così Che si è sempre messa Davanti col cuore Farà sì che anche a te Arriverà la fibra ottica Che nelle case Nei laboratori Gli artigiani Che fanno anche piccoli volumi Possono venderli In tutto il mondo Però devi avere velocità Fra qualche anno Questa ci giochiamo La scommessa Dobbiamo partire subito La TAV è fondamentale Decidiamo Decidiamo su Mestre Colleghiamo l'aeroporto Aiutiamo l'aeroporto Nelle rotte internazionali All'Italia Non sta scommettendo Su Venezia Signori Attenzione Dopo sei mesi Di commissariamento Ci stiamo Perdendo le rotte Qui dobbiamo Dare una mano Tutti E chiunque aiuterà L'aeroporto Aiuta la città Dobbiamo aiutarlo Dobbiamo aiutare A trovare nuove rotte Per il Brasile Per la Cina Per diretti Con Venezia Diventiamo Abbiamo l'Expo Fra poco Domani Arrivano le delegazioni mondiali Di degli stati Siamo pronti Qualcuno dice qualcosa Non c'è un programma Complicato da fare Bisogna il giorno dopo Fare un ufficio Che li riceva E che dopo Che gli ha fatto vedere I giardini della Biennale Dove inaugurano Il loro padiglione Poi li porti a vedere Porto Marghera Le aree dove investire Le cabine Le gru da fare Per i portuali Per le aziende Che lavorano al porto La logistica I nostri progetti Sull'offshore Non facciamoci Rifregare la Trieste Ragazzi Sono amico di Trieste Sono socio Non so se sia Un conflitto di interesse Sono socio Nel Baschi di Trieste Mi dichiaro Socio del Baschi di Trieste Al 20% Cioè Abbiamo creato Una compagnia Per tenere sui ragazzi Gli facciamo giocare In una categoria più bassa E l'altro giorno Il sindaco di Trieste Eravamo assieme E gli ho detto Abbiamo una grande cortegia Ogni tanto viene Ci parliamo Ma noi non molliamo niente Non potevamo mollare niente Le navi sono nostre Con Trieste Andiamo a fare accordi Di amicizia Di ogni genere Collegamenti Di ogni genere Con tutti Ma Venezia Venezia è Venezia Venezia è Venezia Credetemi È nostra città È una delle città Più grandi del mondo La facciamo tornare Datemi una mano Ce la facciamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti